In particolare voglio richiamare le attenzioni su tre delibere, una riguardante il nuovo preziario regionale sulle opere pubbliche, su quelle che sono poi le voci che compongono i capitolati quando le stazioni appaltanti decidono di appaltare e di selezionare i contraenti nel libero mercato. E questo è un elemento fondamentale sia per la qualità della democrazia economica sia per la qualità anche della spesa, sia quando si tratti di soggetto pubblico ma anche di soggetto privato. Stabiliamo quelli che sono i costi standardizzati per ogni voce minima di realizzazione. E voglio per questo ringraziare la struttura che ha lavorato a questo importante prodotto, la struttura dei lavori pubblici della regione. Poi c'è un'altra delibera molto importante che è la zonizzazione sulla compatibilità degli aiuti di Stato. E' una delibera per la quale abbiamo lavorato tanto e ci siamo sentiti anche a livello nazionale sia con i vertici politici del Ministero dell'Economia sia con i vertici tecnici del Ministero dell'Economia. E' una delibera che tiene da conto quali sono le aree di sofferenza della regione e quali sono le aree che sono bersaglio di importanti investimenti produttivi ad impulso di privati o anche ad impulso del potere pubblico ma con protagonismo dell'iniziativa privata. E poi c'è una terza delibera alla quale io tengo molto che è la delibera che per la prima volta viene assunta in seduta per adesso di organo collegiale della Giunta ma poi la porteremo anche al Consiglio per elevare il profilo della capacità programmatoria per quanto riguarda gli investimenti infrastrutturali per la gomma, per il ferro e anche per la modalità di mobilità attraverso l'acqua. Abbiamo fatto scelte di campo molto nette che io riassumo dicendo che la prima scelta di campo che fa l'Abruzzo è la realizzazione funzionante della Fondo Valle Sangro come prima opera prioritaria di significato nazionale. Poi ci sono le altre opere compreso la direttrice Amatrice, l'Aquila Navelli Bussi, poi il quarto lotto della Teramo Mare, poi l'accesso pescaresi al Gran Sasso della Maiella, poi le varianti agli abitati che sono serviti dalla SS16, poi importanti assi di penetrazioni all'interno di giacimenti turistici di grande significato. Insomma abbiamo fatto un ragionamento davvero animato da cultura della programmazione. Ho voluto scegliere questa sottolineatura attraverso la stampa perché voglio che entri nel patrimonio di conoscenza non solo della classe dirigente ma anche degli operatori economici e dei cittadini. In particolare l'aggiornamento del frontuario delle opere edili che cosa comporterà? Io in questa circostanza mi faccio aiutare anche dal direttore dei lavori pubblici anche per entrare nel dettaglio di questo importante strumento che garantisce la democrazia economica dal punto di vista della realizzazione dei lavori pubblici. Si stabilisce quanto vale ogni voce minima nella esecuzione dei lavori pubblici ma anche dei lavori privati riferiti all'edilizia. Qui c'è l'ingegnere Caputi che poi può ulteriormente dettagliare. Io tra l'altro tra poco raggiungo la capitale perché oggi incontro l'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato, l'ingegnere Elia. Direttore Caputi, ieri sera in giunta è stato approvato l'aggiornamento del preziario. Che cosa comporterà? Quali vantaggi per l'Abruzzo? Diciamo che non si tratta di un atto meramente rituale. In realtà per l'obbligo di legge ogni anno è necessario che le regioni aggiornino il loro preziario. In realtà però questa volta stiamo lavorando su uno strumento completamente nuovo. Il preziario è una delle maggiori cause che danno origine a tutto quel contenzioso che normalmente leggiamo sui lavori pubblici. Perché le interpretazioni di che cosa contenga una lavorazione non è un fatto banale e questo determina poi un litigio fra la stazione appaltante e il costruttore. Abbiamo fatto un'operazione veramente di largo respiro perché abbiamo definito il preziario attraverso, così come prevede la legge, credo che siamo una delle prime regioni in Italia a farlo, se non la prima, e quindi attraverso la composizione di prezzi unitari delle singole voci, cioè tanto costa il lavoro, tanto costa la materia prima, tanto costano i mezzi, moltiplicando tutte queste valutazioni si fa una valutazione di quanto vale quella lavorazione. Questa attività l'abbiamo fatta con una larghissima partecipazione nelle parti sociali. Abbiamo uno strumento di concertazione che si chiama Ceremoco, al quale partecipano il mondo delle costruzioni in tutte le sue facce, cioè sia il mondo datoriale che il mondo sindacale, che partecipano naturalmente gli ordini professionali, i rappresentanti dei tecnici degli ambienti locali, quindi è un tavolo veramente ben assortito e tutti hanno dato il loro contributo per raggiungere questo obiettivo. Quindi è uno strumento anche dal punto di vista della condivisione largamente meditato da tutte le parti. In questa maniera noi riusciamo quindi ad aggiornare i prezzi, non più statisticamente legandoli all'inflazione, ma realmente legandoli all'incremento dei costi, dove questi si siano verificati o al decremento dei costi, dove questi si siano verificati per singola attività, cioè la mano d'opera quanto costa? Il 2% in più. Ma il ferro però è calato rispetto alla contingenza, noi riusciamo quindi a operare su ogni parte del preziario facendo un'operazione di verità e quindi mandando a base di gara opere che hanno una valutazione molto dettagliata.